Alia è il primo punto di contatto degli utenti con ciò che hanno già usato. Nell'economia di trasformazione circolare è la prima infrastruttura a disposizione dei cittadini per contribuire a un mondo più sostenibile. Gestire la raccolta e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti si fa solo con la collaborazione dei cittadini. Ciò che loro vivono e le difficoltà che incontrano devono essere la ragione per modificare il nostro modo di operare. In Alia abbiamo deciso di raccogliere, analizzare, agire sui feedback partendo dai nostri touch point. Quello che è emerso è come il rapporto umano, il contatto sia essenziale per trasformare quello che è un servizio in una vera e propria esperienza. Qualtrics ci può servire sicuramente a capire se siamo sulla strada giusta e darci eventualmente dei suggerimenti di modifica. Questo quindi significa collegare la piattaforma Qualtrics a tutti i nostri punti di contatto, il call center, il sito, l'app, di modo che in ogni contatto che ci sarà col cittadino noi avremo modo di chiedere un feedback. Quello che è stato fondamentale in tutto il processo è la consulenza fornita da AssisDigital. Tutte le persone che lavorano in Alia e che hanno avuto modo di sperimentare la piattaforma abbiamo notato come hanno avuto finalmente la sensazione di ascoltare l'utente e di farlo in maniera semplice, con una piattaforma strutturata e soprattutto una piattaforma intelligente. Consideriamo l'esperienza dei cittadini la guida per cambiare i nostri processi.